qual è l'etimologia della parola musica? wikipedia dice che la musica è un sostantivo la sua etimologia dice arte delle muse è una forma d'arte che utilizza il suono questo è il significato che da wikipedia l'arte è il linguaggio il linguaggio è comunicazione comunicazione di un artista che unisce i suoni per trasmettere delle emozioni a degli ascoltori l'etimologia della parola musica è arte delle muse ciao al prossimo video ti aspetto